Dunisiani ci siamo Sì Aiuto com'è che si fa Ok Com'è che si fa cosa Non lo so perchè non sono brava a guidare su GTA Eh beh non so Aiuto Angelo Nuova regola Pensate che le regole servono Allora se tipo qualcuno arriva A parte me ovviamente Alla fine Non è che le concludete le gare Sbagliata Perché le versione sbagliata Perché Eh sì Ma perchè io Ma infatti allora praticamente siamo Siamo qua nelle gare stunt di GTA 5 E le gare stunt Sono molto belle no Perché praticamente succede che Stuntiamo un po' troppo no Ciao ciao E quindi allora prima di tutto Allora E' molto bello sinceramente perchè praticamente io in queste gare Posso dire Angelo stai fermo Lui sta fermo Vedete Stai fermo Oh me sono stato doppiato Stai fermo così ti raggiunge Chiara Lui sta fermo Stai fermo Mannaggia te No No Angelo ti butto fuori dal video E ti tolgo Ciao Ciao Angelo Stai fermo Creatura del male No Bene Ciao Denis mi hai buttato di giù Sì perchè te lo meriti Te lo meriti Allora Denis Aiuto Senti così Chiara non si sente esclusa no Senti io sono dietro 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 Aiuto Povera Chiara Dietro dietro Comunque posso dire che è molto noioso Questa cosa che dobbiamo girare intorno Allora Sei in effetti Nel mentre facciamo queste gare molto belle Direi anche di fare Non so Non so qualcosa Tipo un giochetto Facciamo 2 più 2 che fa 4 Poi 4 più 4 quanto fa Ragazzi Eh A quel paese No Vuoi raggiungermi a quel paese Sarebbe molto Vabbè Allora Quindi 4 più 4 Angelo quanto fa 6 Sì Eh 4 più 4 Fai finta Chiara Ok Con le mani Chiara sei 8 più 8 quanto fa 16 No tu sei noiosa Che noia Chiara Cioè Fa Fa chiaramente pesce Poi 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 Angelo 7 più 7 Vai dimmi Eh 7 più 9 3 3 Beh sì Ma Mentre Mentre che lo dici carissimo Angelo Potresti parlare bene no? Tu cosa dici? Grida Sì sì 3 Fa 3 Fa 3 L'ho detto Molto bene Allora No comunque sta ancora parlando basso Cioè Oh Che schifo Che schifo Devi gridare Angelo Sto parlando basso Io? Scusami Cioè Poi non si sa Si avvicina al microfono Dopo si sente di nuovo Sì Avvicina Non lo fare mai più Mannaggia a te Non lo fare mai più Perché sennò parto come prima Con Chiara Eh Non lo fare mai più No non raccontiamo Un certo cosa No no Non raccontare i deniziani Sì Deniziani Deniziani Eh Non raccontare i deniziani Quello che fanno Allora Oh ma Vabbè Lasciamo perdere Comunque non raccontiamo Perché è meglio È molto Family friendly Non raccontare Esatto Allora Deniz Stiamo a pagare scelta E' veramente noiosa Sempre il giro uguale Eh mi sa di sì Poi dura Quanti giri ci sono Non smette più Sarebbe stata bella Una volta Noi abbiamo giocato Parte dalla storia Della Eh guarda È vero È vero Riuscivo a volare Molto vero Sarebbe bello Però Peccato Peccato Stai zitto Non sai fare niente Angelo Esatto Faceva schifo E non sai fare niente Però Che bello Prenderli in giro Esatto Ah comunque Vi ho informato Che avete perso Entrambi E ho vinto io Io sono al quarto giro Sbrigatevi Eh sbrigatevi Lo sai che io Con le macchine Proprio Sbrigatevi No creatore del male Non è vero Io no Ah è finito Ma che bravo Bravo Finisci di meno Ma che Sto Cosa che ti intendo Secondo me ci sei Chiara Un po' più di brio Perché si si vede Ma mamma mia Vabbè Duniziani Io direi che ci vediamo Alla prossima gara Sunt Io sto mangiando I taralli calabresi Cosa ho sentito Questa parte rimarrà nel video No 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 Ok ci risiamo Questa è la seconda gara Gara Chiara Ci sono Ci sono scusate Mamma mia Ah le orecchie Eh beh Che se Allora cosa Non so cosa sia successo Non lo voglio sapere Guardate però Magari la prossima volta No Un po' più di attenzione Ma poi c'era Tipo chiara che faccia Eh se me ne hai Avete presente Tipo L'esorcista No è perché Non potevo Parlare Cioè Ero tutta mutata Quindi Scusatemi No non eri mutata eh No si era mutata Ero mutata Ma io ti sentivo Che caspita dici Cosa hai sentito Scusa Io ho sentito tipo Ah Vabbè Comunque Ah vabbè Non pensavo Cosa parliamo di queste cose Non ne ho idea Vabbè Allora Allora Prima di tutto Angelo Angelo Prima di tutto Sta indietro Perché Non è che puoi vincere Io sto indietrissimo No nel senso Non è che puoi vincere Quindi devi aspettarci Ma io sto vincendo Ma perché oggi Ho problemi No no Dennis 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 Come faccio A tornare in partita Penso F Porca miseria Comunque penso F Ma come Allora Però Cioè Dobbiamo parlare bene Perché c'è Chiara Che stava facendo E come E poi c'è Angelo Che fa Quindi Ma non Ma non Ma porca miseria Che è successo Ma sei impazzito Scusami Mi hai mutato Eh Però mi ha spagato Pure in team Poi entrambi Ma io perché ho Ah ma qui bisognava andare Allora Non bloccatevi là dentro Per l'amor del cielo Perché Rompete il gioco a tutti Oh ma guardate voi E le vostre Scangiaggini Dai No è impossibile È impossibile Cioè È impossibile È colpa del Aiuto È colpa del creatore Della mappa Della mappa questa Cosa ridete Dai È impossibile Ho visto Angelo Cosa Cosa Hai visto Angelo Camminavo con La macchina Testa in giù Aiuto Che scemi Che scemi Allora però È impossibile È impossibile cosa Angelo Spiega le tue Motivazioni Illiriche Allora Non so perché ho detto Questa cosa Però vabbè fate finta Sì vuol dire tipo Albanesi Alba No vabbè allora Questa cosa del razzismo È un po' Sopravvalutata Non so cosa sto dicendo Comunque È impossibile È impossibile Chiara stai brubbottando Stai facendo tipo Illiriche Ok perfetto Perché se non lo sapevate Nella storia Dai Che rottura di GTA GTA Madonna GTA Santa Mariana delle rose Perché devono esistere Questa gara delle rose Allora Adesso Io mi concentro E completerò Questa mappa Del cavolo Per Che Non è possibile Non ho ancora fatto niente Aspettate Adesso però Ce la facciamo Duniziani Credete Ce la dobbiamo fare per forza Non è che Aiutatemi Aia Angelo hai rotto le palle Sei sempre in mezzo alle Eh Allora Ti sposti Si è completamente bloccato Si è bloccato Ma io Cosa Ti sposti Aiuto Scusa Forza Adesso Angelo fai cagare Cioè Scusami Oh Veramente Cioè io boh Adesso prendo la rinconca Sono caduto di nuovo Porca Miseria Eh Allora Mi stavo spingendo dentro Cioè Sono una cosa Cosa Allora Qua mi sto innervosendo Perché continuo Allora Scusate Adesso Sono i miei raptus emotivi Allora Praticamente Allora Angelo Spostati dalle palle Perché continui a rompere Cioè sei sempre in mezzo alle scatole È una cosa impossibile Veramente Sempre lui Sembra qualcosa Sì È incredibile Chiaro Tu non ci sei mai E poi c'è sta caspita di macchina Che non va Non va Non la prende Non la prende Adesso però la prende nel sedere Questa macchina Perché non è possibile Oh Santa Mariana Delle Rosanne Io non riesco Dennis ma io dico Cioè La prima Faceva schifo Perché era noiosissima Questa invece è impossibile Ma io dico Boh Per fare Un equilibrio Per fare un equilibrio Allora però Madonna No impossibile Forse ce la facciamo Intanto voi ridete Perché Qua No niente Impossibile Qua però Avevo visto Qua si stanno Niente La fine È la fine Dunisiani Qua Stai sentendo male Comunque qua Se vedete Qua Si può Mi sa Beltare la mappa Cioè nel senso Si può tipo Ingannare Perché qua Praticamente Arrivi da questa parte Si può arrivare Dall'altra Se vinco così Rido troppo Rido troppo Rido troppo Allora Praticamente Dunisiani È impossibile Quella parte È infattibile Letteralmente Cioè Qua ci stiamo Da mezz'ora Letteralmente Ci stiamo Praticamente Da 12 minuti No 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 Ragazzi Siete stupidi Siete stupidi Siete stupidi Dovete Andate Fate il giro Dall'altra parte Fate il giro Dall'altra parte Io ho preso Il checkpoint Dove? Praticamente Barando Eh dovete Barare Dall'altra parte Dove Tipo Ecco Sì brava Allora mi vedi Chiara? No mi sa di No Angelo 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 Tu guarda Alla tua destra È praticamente Su quell'autostrada È lì È lì Praticamente Prendi la map Eh esatto Là dietro Dietro di noi Eh esatto Sì Praticamente Andate Prendete la rampa Ok E dopodiché Andate Insomma Là c'è il checkpoint Odunisiani Cioè sono troppo genio No però Allora quella parte È impossibile Cioè veramente Ma infatti Ma come si fa Cioè Io sono persa Io però mi sono messa A ridere Una mia Sì ma veramente Da mezz'ora Siamo in questa situazione Angelo che si stava tipo Morendo Praticamente Non so cosa stava Succedendo lì Una situazione veramente Molto strana Chiara Eppure Bravo Angelo da questa parte Sì Angelo Angelo ha capito Adesso sto andando da Chiara Per vedere La sua La sua cosa Dove sta andando Io non riesco a vederla bene Però Chiara Perché Aiuto raga Non so dove sono Ok Chiara Vai Vai su quell'autostrada Adesso guarda la tua destra E praticamente è là Sì è vero È là E non so Trova un modo Vai su quell'autostrada No vabbè Ok Chiara non è arrivata Ma vabbè Dai Vabbè come al solito Non è giusto È una cosa bellissima È molto bella Veramente Anche molto stressante Perché poi dopo Alla fine non si riusciva Quindi donisiani Se siete arrivati Fino a questo punto del video Perché è finito ovviamente Scrivacciate Ridate Nei commenti Ridate Ridate No ridate Perché è più divertente È bello Quindi ridate Mua proprio Vi bacio tutti E quindi noi ci vediamo Ci vediamo al prossimo video Ciao donisiani Ciao 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 Grazie a tutti.